Yo! Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Come ben sapete siamo andati molto bene nel secondo episodio, abbiamo realizzato più di 5.000 like e quindi vi siete meritati il terzo episodio della top 10 prank su Omegle. Se volete altri episodi raggiungiamo 5.000 like in questo video per ottenere la quarta puntata. Mi raccomando lasciate un commento, iscrivetevi e attivate la campanella così non potrete mai perdervi un nuovo video. Basta con le chiacchiere, vi lascio alla top 10, grazie mille per il supporto, vi voglio tanto bene, un bacione e buona visione. Ok, mi qualche altra cosa. 999-90 109? 109 Ah no, giusto! Eh no, ho capito male! Cioè tu cosa vedi? Tutti i numeri che si incrociano, che fanno bug? No, non vedo niente! Fugio! E 77 più 22 quanto fa? Eh ma non... Perché ti spiego? Ha bisogno di vederle le cose. Tipo 100 più 90 sai quanto fa? 900 Brava! Ti giuro di tentare a testa che si muore! Che lavora! Ciao! Sei bellissima! Grazie, anche tu! Ma sei fidanzata? No! Saresti interessata a conoscere qualcuno? No! Ok, posso comunque farti vedere mio fratello, per favore? Poi, in caso, magari mi dirai se cambi idea. Va bene! Te lo devo chiamare? Chiamare! Piacere, Mariano! Sei ancora interessata a uscire? Sì, va bene, va bene. Quando mi ospiti a casa tua? Flexo e inflexabile? Tutta tua! No, no, non ti voglio! Ah, non mi vuoi? Quindi, ripeto, quando è che mi inviti? Allora, scegli te il 32 febbraio, va bene? Se vuoi vengo anch'io! Allora, se vengo io devi venire anche mia sorella! Va bene, va bene, va bene! Ma secondo voi, Mariano Prank è pelato? Sì! No! Non è possibile! Ma non è possibile! Non è possibile! No! Ma hai capelli, quindi? Io pensavo che stessi pelato! Ma secondo te... Oh, scusami! Ma Mariano Prank è pelato! Andrè! È una domanda normalissima! No, secondo me no! Dai, che carina! No, andrà che sto tremando pure l'anima! Oddio, Andrè, però, mi avrò incontrato! Anzì, che è una domanda da vita! Andrè! Oddio, Dio, caldo! Allora? Esti cazzo! Oh! Che febbra! Oh! Oh! No! Perché sono sbentata! No, Dio, Dio che vuoi venire so... Oh! 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 Oh, ma per la libero! Oh, ma per la libero! Oh! Oh! Sei vero, Mariano! mi piace quel colore per caso dove sono figli? in Ucraina? tuttavia che fai parte della laguna CORRE NOO no dimmi che sei Mariano prank No dai ti prego No 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 Mariano Sono felicissima Se te lo chiedo per favore puoi non postarmi No era bellissimo da postare questo Va bene allora postalo Un bacio e buona serata ti voglio bene Ciao Dimmi dimmi se sei real giura Giuro Ti posso disegnare Bellissimo Ti ho aggiunta la mia lista Ma che c***o Se vuoi distruggere la maledizione dovrai fare questo C'è Mariano Frank No non è vero Non è c***o non è vero eccolo Eccolo Oh 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 Sei vero Mariano Io ti ho appalato per caso Oh 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 No 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 questo è uno scherzo No muoviti eh non voglio fare scherzi No mi stai tendo ansia Ramba No Buona serata Ciao Ciao Non mi hai schippata Eh invece si Praticamente arriva sto ragazzo si inginocchia con un microfono e mi fa mi vuoi sposare E io faccio tipo non credo nel matrimonio E lui tipo mi fa ma per me fai un'eccezione E io faccio no Certo un rizzo devastante senti qua Siete una pizza perché una fetta a testa vi mangio tutte .. Allora continua la canzone e ti faccio vedere Mariano Branc Ma non ci credo manca se mi paghi Ehi mamma sita voglio la tua cosita E lei è blanca, blanchita, io voglio la sua amica All'occhio, c'è il patto, 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 c'è il patto E mamma si, io la c'ho così, c'ho, miam, 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 con un sacco Il problema è che io sono uno e voi siete troppe E non fa niente, vai, batti, portate quattro Se continui la canzone ti faccio vedere una persona E lei è blanca, blanchita Mi chiede cosa fare perché non se la mia mamma, ricordo più La gattina, la gattina, la gattina No, ma, dove è? No, vabbè, io con te ho fatto centro Amo il tuo look e il tuo accento, no, poi non me la ricordo più Eh no, se la continuavi usciamo insieme, eh No Beh, quindi non la sai Dai, la voglio però Eh, allora uscirò con la tua amica Il giocatore più forte della Francia Cristiano Ronaldo Momento, 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 momento Appa 9 Mamma che cosa ho sentito Ma è vero Appa 9 Ma che c'ha? Ciao Ciao Ma tutto bene Oh Eh, ci stava una ragazza che stava mangiando Eh Ma sei Frank? Sei quella di Marefuori? Sì Prova a dire Io sono Rosa Ricci Io sono Rosa Ricci No, no, riprovaci Credici Vai Fidati di me Faremo Oh, tu sei quello che fai video Niente Lo dico di tanti Ma dove è Mariano Fank? Dove è Mariano Fank? Dove è? Mariano Fank? Fank Vabbè pure Mariano Fank Mariano Fank Fank No Non è male comunque Oh Oh Mariano Fank E tra poco è pronta la pizza Ciao Oh, ciao Ciao Come stai? Ciao No Ma 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 Assurdo, perché quando registro Tu fai un po' là Allora stai legando Ho capito? Eh, sì Però stavo legando Oh, ma Questa Ciao Ciao bro Oh Ciao Ciao bro Oh Oh Siamo arrivati al termine di questa top 10 Signori Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando seguitemi su tutti i social E su Instagram e TikTok Che anche lì ci saranno news In anteprima Che qui su YouTube ovviamente non posso pubblicare Vi invito a lasciare un commento Se il video vi è piaciuto Vi raccomando iscrivetevi E attivate la campanella Per non perdervi il prossimo episodio Quindi che dire Ci vediamo al prossimo video Let's go E attivate la campanella